Andò, peccato che devo mantenere la linea. Veramente li mangiavo tutti. Dopo la parcetta veniamo qua, dopo che mangi. Il cibo aiuta a unire tutta la famiglia, a stare tutti insieme. Per noi italiani è molto importante questa cosa. Postecino è una piccola, 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 piccola. Ho venuto in Italia, in 1988. Abbiamo due partenze, Mike e Frank, per la ultima 20 anni. Mike, ho studiato come un piaccio, quando era 17 anni. Frank era un bucboy di Postecino. Alla le mie ricette che ho portato da Italia, ho passato ai miei partenari. E noi lavoriamo come una famiglia. Antonio e I si messe e abbiamo parlato di soccer. E abbiamo fatte friends. I metto Bill l'anno che venne qui per la TFC L'anno settembre dopo aver perduto la game venne qui a la bar e mi chiede che mi chiede Lorenzo Sena e mi chiede Bill, penso che è impossibile Per loro, la città è famiglia I just love that That's why I wanted to bring Lorenzo here Lorenzo, bello, bello Bello, bello Welcome to Toronto Thank you, all for one Sempre all for one It's the first words he learned in English All for one Adesso penso che ci avrà un po' di fame Andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare Today at Pou Succino we're making our famous Pagliaferro a Funghi Boccini We add a little bit of butter Whipping cream Some puree of tomato Fresh porcini mushrooms We'll cook our homemade in house egg and spinach noodle And there you go Look at this Look at this Come on Buon appetito Buon appetito Buon appetito Si vede che anche qui c'è un grande spirito di famiglia e per noi napoletani è molto importante Toronto FC is a family and you're a big part of the family Now Nei siamo molto contenti di stare qui con voi Sono molto contento di far parte di questa famiglia Mastercard che è un'impresa molto importante che sta aiutando tanto questi piccoli ristoratori come il Posticino No Thank you very much Frank Grazie No 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 Come on Lorenzo Look at this Antonio Antonio grazie per la cena Mastercard e Toronto FC ti invitano allo stadio a vedere la partita nella Mastercard suite Grazie 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 a Mastercard questi ristoratori sicuramente cresceranno e questi posti diventeranno ancora molto più importanti Lorenzo Insigne signing with Toronto FC and that's about as priceless as you get right there Grazie